La domanda che ci poniamo è se nel campionato siamo ripartiti da Bologna, in Champions ripartiamo al Real Madrid? No, penso che abbiamo fatto una buona partita stasera e in Champions non c'era bisogno di ripartire perché eravamo partiti con una bella vittoria in trasferta e oggi dispiace per il risultato, però penso che la prestazione è già stata e adesso avremo questo doppio confronto contro i tedeschi che sarà fondamentale per il passato. Commentare questa partita quando ha la parola peccato sembra giusto? Sì, può essere la parola giusta perché vedendo la partita non meritavamo la sconfitta, però la Champions è questa, appena sbagli qualcosa le squadre ti puniscono quando incontro questi grandi campioni come ho detto anche in altre interviste, dispiace per il mio errore sul loro primo gol, però la squadra ha fatto una buona gara e quindi siamo contenti della prestazione al di là del risultato negativo. Avete detto qualcosa? Come ho detto che al minimo errore queste partite si risolvono per i dettagli e dovremmo essere bravi a non commettere più questo tipo di errori, però ripeto la squadra è stata bella in campo, ha giocato alla pari contro una grandissima squadra e questo può aiutare sicuramente nel percorso. di crescita di quest'anno. Avete detto qualcosa ad Alex dopo questo autogool sfortunatissimo e incredibile anche per certi mesi? No, non abbiamo detto niente, è stato un bel gol, un bel tiro, un po' anche fortunato, però come ho detto prima è dispiace anche per il mio errore, quando si prende cose, quando degli errori si fanno e mi prendo la responsabilità di questa cosa è perché gli ha ridato entusiasmo, gli ha ridato fiducia e sono rientrati in partito, sono riusciti a ribaltarla, quindi dispiace, però come ho detto la squadra ha fatto una buona prestazione e siamo contenti, admirati il risultato. Sì, sì, la prestazione sicuramente c'è stata, dispiace soltanto per il risultato, la squadra ha giocato bene alla pari contro la Madrid, sicuramente non meritavamo di uscire sconfitti, però questa è la Champions League, ha due di merore, le squadre con questi grandi campioni ti puniscono e dovrebbero... Grazie.